Il Golfo di Policastro piange la scomparsa di Don Mario Carpentieri, sacerdote vicino alla gente, incarnazione di fede e di umanità. Il parroco è venuto a mancare all'età di 90 anni, che aveva compiuto lo scorso ottobre nella serata di lunedì presso l'ospedale di Sapri, dove era stato ricoverato per un peggioramento delle sue condizioni. Don Mario da tempo era allettato e aveva vissuto la sofferenza con grande dignità e senza perdere la sua fede e il suo spirito. Nato a San Giovanni Appiro nel 1930, era stato ordinato sacerdote il 28 giugno del 53, all'età di 23 anni. La sua opera è nota in tutto il comprensorio, negli affatti ha svolto la sua missione sacerdotale presso la parrocchia Maria Santissima delle Nevi di Castelruggero, la cattedrale Santa Maria Assunta a Policastro Bussentino, la parrocchia San Giovanni Battista Sapri, la parrocchia San Pietro Apostolo a Torraca e la parrocchia Immacolata Scario. Fu anche rettore del seminario vescovile di Policastro e canonico del capitolo cattedrale di Teggiano. Si occupò della formazione di tanti giovani di cui seguì spesso le storie personalmente aiutandoli moralmente e concretamente. Ecco perché non sono solo i sacerdoti e la Chiesa a ricordarlo in questo frangente, ma soprattutto la gente comune che sta condividendo il proprio ultimo saluto al sacerdote profondamente amato. Moderno nel suo modo di agire e di pensare anche quando l'età era diventata avanzata, dinamico ma profondamente attento alle sensibilità delle persone e al significato del suo abito sacerdotale, ha messo in pratica durante tutta la sua vita i dettami della fede, praticando la solidarietà, la carità, l'umiltà senza mai farsi travolgere dalle vicende terrene. Dal pomeriggio di oggi la salma sarà nella Chiesa dell'Immacolata Scario per una veglia di preghiera. Domani alle 15.30 il vescovo della diocesi di Giano Policastro, padre Antonio De Luca, presiderà le esequie nel rispetto della normativa Covid.